con una chitarra classica e tre accordi puoi veramente esprimere le emozioni più profonde del tuo cuore la scelta della chitarra classica non è casuale infatti il suo suono ha una qualità unica e incantevole che veramente risuona nell'anima io la adoro e spero che dopo aver imparato questi accordi anche tu adorerà questo strumento incantevole dove persino un semplice accordo suona incredibilmente romantico e pieno di passione immagina che cosa puoi fare con tre accordi iniziamo nel modo più semplice la progressione di accordi che usiamo oggi è in si minore e comprende tre accordi si minore ad undicesima un la maggiore con un la sesta nona ed un sol maggiore con un sol settimo maggiore partiamo un attimo dalla ritmica quindi la mano destra mi piace usare le dita per pizzicare le corde e quindi utilizzo un pattern di finger picking che chiamo pima esteso adesso pima categorizza le dita della tua mano destra p sta per pollice i per indice m per medio e a per anulare suonare questi accordi con l'arpeggio pima ti dà questo risultato con il pima esteso aggiungiamo più note al pattern di base precisamente quattro note in più suoneremo sempre lo stesso set di corde quindi quinta quarta terza e seconda corda per il pima esteso avremo pollice indice medio anulare medio indice pollice e indice stiamo suonando otto note sono tutte crome e vanno tutte in una battuta 1 2 3 e 4 1 2 3 e 4 possiamo poi utilizzare questo arpeggio per suonare gli altri accordi la cosa fantastica di questo pattern è che si concentra su cinque corde infatti finora non abbiamo mai suonato la corda mi il micantino aggiungiamo questa nota e vediamo come cambia l'atmosfera della stessa progressione di accordi io adoro utilizzare il tocco appoggiato con il dito medio che va quindi ad accentare le note che suoniamo con il dito medio in questo caso avremo pollice indice medio anulare con il tocco appoggiato quindi suono la seconda corda e appoggio il dito sulla corda adiacente quindi sulla terza corda e farò la stessa cosa anche quando suono la prima corda sempre con l'anulare vediamo il pattern sul giro di accordi abbiamo quindi esplorato l'aspetto armonico degli accordi e il pattern ritmico con la mano destra ora completiamo questa tela musicale aggiungendo il terzo elemento musicale una melodia poiché stiamo suonando lo stesso arpeggio due volte sacrifichiamo il secondo per dare spazio ad una melodia di tre note quando suono questa melodia mi piace usare ancora la tecnica del tocco appoggiato che va a evidenziare queste note quindi da più volume a queste note con questa tecnica appoggiamo il dito sempre sulla corda adiacente subito dopo aver pizzicato la nostra corda per questa melodia usiamo sempre l'anulare ora raggiungiamo il climax con questa melodia di sei note aggiungiamo anche un nuovo colore alla progressione di accordi cambiando quindi non soltanto la melodia ma anche il modo in cui andiamo a suonare gli accordi questo è importante perché la struttura armonica dopo aver suonato gli stessi accordi per un po' porta una ventata di fresca e un'eccezione inaspettata vi sono ad esempio un'eccezione inaspettata. Alla prossima armonica dal io spero di avervi fatto innamorare della chitarra classica ma non soltanto anche di questi accordi molto molto belli mi raccomando studiate lentamente se vi serve la tab e la partitura interattiva la trovate sul mio sito vi lascio tutte le info in descrizione buono studio buona musica e noi ci vediamo alla prossima